il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di remington e di 8.6 su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo questi sono i suoi punti di forza ergonomico facile da usare facile da pulire durata della batteria longevità leggero il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video remington ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9 su 10 risulta essere il migliore di questa selezione le sue qualità sono facile da usare ergonomico durata della batteria longevità facile da pulire in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto la valutazione finale assegnata a questo articolo di remington è di 8 voti su un totale di 10 risulta al momento essere il più desiderato i punti di forza sono facile da usare ottimo rapporto qualità prezzo durata della batteria leggero longevità se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video la votazione finale assegnata a questo prodotto di remington è di 8.8 voti su 10 risulta essere il più esclusivo di questa selezione i punti di forza sono robustezza impermeabile durata della batteria ottimo rapporto qualità prezzo durabilità puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video questo prodotto realizzato da remington ha conquistato una votazione di 8 su 10 punti totali questa è la nostra scelta migliore viene molto apprezzato per queste caratteristiche leggero facile da usare durata della batteria in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato il voto complessivo di questo articolo di remington è di 8.8 su 10 è il più scontato di questa selezione le sue funzionalità sono facile da usare leggero ergonomico comodo ottimo rapporto qualità prezzo durata della batteria se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video